L'isola accelera la campagna di vaccinazione, toccando le 13.645 somministrazioni al giorno. Da oggi alle ore 12, anche i cittadini classe 1981 e i nati negli anni precedenti potranno prenotarsi sul sistema delle poste italiane per richiedere la somministrazione del vaccino. Da oggi ulteriori apertura anche per i pazienti affetti da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. Ora sarà possibile prenotarsi anche per i nati dal 1971 al 2004. Dal 24 maggio i caregiver e i familiari conviventi dei cittadini riconducibili alle categorie indicate potranno prenotarsi sul sistema delle poste con i dati della tessera sanitaria del soggetto disabile o trapiantato, anche se questo fosse già stato vaccinato. Ottimi risultati arrivano dalle adesioni dopo l'attivazione del portale di poste italiane. Dal 14 maggio, data in cui il sistema è entrato in funzione, sono 95.000 cittadini che hanno prenotato la prima dose, con 17.000 fragili e 911 richieste di somministrazione a domicilio. A soggetti non deambulanti. Sul fronte della campagna di vaccinazione, dichiara l'assessore regionale alla sanità Mario Nieddu, si continua a lavorare senza tregua. I risultati iniziano a riflettersi sul quadro epidemiologico, che continua a migliorare e anche la zona bianca non è un miraggio. Servono ancora responsabilità e il massimo impegno da parte di tutti, ma il ritorno a una nuova normalità in sicurezza è possibile.